Sale la febbre del derby Gela Nissa che torna a distanza di diversi anni. Domenica 28 alle ore 16 al Vincenzo Presti si disputerà l'andata del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza, ritorno previsto mercoledì 7 a Caltanissetta. E si preannuncia a Massiccio il numero di sostenitori nisseni sugli spalti dello stadio della Città del Golfo per il primo impegno ufficiale della stagione. Anche a Gela c'è particolare attesa per questo incontro e nota la rivalità sportiva tra i due centri, da una parte il capoluogo nisseno, dall'altra una città che vante il maggior numero di abitanti in tutta la provincia, almeno 15.000 in più di Caltanissetta. Ma al di là di questioni campanilistiche, le massime espressioni calcistiche, gelesi e nissene hanno sempre disputato derby di notevole intensità, sia sul piano agonistico che su quello tecnico, a prescindere dalla categoria. Il Gela ha già annunciato l'ingresso gratuito per le donne e i bambini sotto i 12 anni. Per il resto pagheranno tutti 5 euro nei settori tribuna e ospiti. Negli ultimi tempi la squadra gelese si è potenziata. L'ultimo arrivo è quello dell'attaccante Simone Abbate, giocatore che ha militato in categorie superiori anche in Inghilterra. Intanto si respira già aria di campionato. Venerdì 26 la Lega Sicula renderà noti i calendari dei due gironi A e B, la prima giornata il 4 settembre.